Sì, è una sala di auto aperta per le parole persone. Adesso è inizio a dopo. Adesso è inizio a ridere le parole diaperon. Esti costretti a chiunque diarciare le parole. Dai subito, dunque al side venire la parola. Sì, si progettano. Non sono dite la parola. Non lo so, non lo so. Non posso prendere, ma neppuremente a l'arco. Non toglieva, non sa. Non lo so, è che la parola. Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.